allora mi rivolgo adesso al dottor forleo volevo chiederle ci sono dei periodi in cui vi risulta che ci sono questi atti intimidatori più frequenti più esacerbati al di là che abbiamo detto anche nei momenti di difficoltà perché questo magari può essere anche fisiologico nella nello stato d'animo delle persone avete qualche risultato al riguardo sì il rapporto di quest'anno ma anche quelli precedenti evidenziano un aspetto il maggior numero di minacce di intimidazioni si registra nei mesi primaverili non è una questione climatica ma una questione semplicemente perché ogni anno diversi migliaia di comuni vanno al voto talvolta ovviamente anche le regioni e il momento migliore per cercare di agganciare un amministratore locale è la campagna elettorale o anche i candidati a direzioni amministrative perché qual è l'obiettivo dell'intimidazione l'obiettivo dell'intimidazione è il condizionamento dell'amministratore locale in un senso o nell'altro ogni anno da aprile a giugno vediamo che l'incidenza del numero di intimidazioni aumenta in quel periodo e vediamo soprattutto che i casi sono molto spesso rivolti a neocandidati alle elezioni locali quindi persone cittadini professionisti persone che per bene che vogliono porre la loro competenza al servizio delle comunità e dei territori che cosa ottengono queste minacce sempre più spesso ottengono il ritiro della candidatura nel silenzio molto spesso dell'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa da questo punto di vista è un secondo perché un secondo obiettivo dell'intimidazione non è semplicemente quello di spingere le persone per bene a farsi da parte ma anche cercare come dicevo prima di agganciare candidati che potrebbero essere poi successivamente essere propensi a stringere rapporti collusivi o corruttivi su questo l'attenzione deve essere deve essere massima proprio in quel periodo di campagna elettorale che porta alle elezioni amministrative adesso stiamo vedendo causa pandemia e adesso entriamo entriamo in un periodo di campagna elettorale per elezioni locali e elezioni regionali e attenzione deve essere massima solo da parte della magistratura o delle forze dell'ordine o della stampa ma anche da parte dell'opinione pubblica quando un amministratore o un candidato alle elezioni amministrative ritira la loro candidatura dopo un atto intimidatorio questa è una sconfitta per la democrazia in primo luogo una sconfitta dei cittadini anche perché sono i cittadini i primi beneficiari o le prime vittime a seconda che vengono elette persone libere o condizionate all'oggi dei criminali quindi questo è un periodo assolutamente momento assolutamente centrale in cui la guardia deve essere alta più del dovuto ci sono atti eversivi con intento eversivo al di là magari del credo politico magari partiti opposti proprio per le versioni l'antistato cosiddetto con l'intento di sovvertire l'ordine sono vi sono atti in cui vi è una chiara connotazione politica estremista c'è di destra che di sinistra c'è vi sono dei casi in cui il sindaco viene colpito soprattutto in quei territori laddove questa divisione molto e molto sentita vi sono degli atti che richiamano a estremismi che sembravano superati di entrambe le sponde ma che richiamano ecco segni 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 antichi e un passato che purtroppo è ancora presente più uomini o donne diciamo che la segue il numero 20 migrazioni segue la proporzione di diversità di genere sul numero insomma di persone di popolazione maschile femminile elette e quello che è interessante notare è che non vi è una distinzione di genere nel genere nel tipo di intimidazione cioè se devo intimidire un amministratore uomo un amministratore donna non mi faccio il problema di utilizzare o meno che possa essere la lettera o possa essere l'incendio dove viene fuori una differenza di genere sono i social network perché molto spesso le amministrateci locali donne vengono intimidite e insultate anche in collegamento con il loro sesso molto banalmente il tema dell'accoglienza gli immigrati che è un tema molto molto difficile molto caldo su tutti i territori ecco se si deve colpire l'amministratrice locale a questo è un caso che viene fuori da molti anni nei vari rapporti amministrati di sottotiro si augura alla donna di subire violenza sessuale purtroppo è un qualcosa che sui social sappiamo essere terra di nessuno molto spesso è qualcosa purtroppo molto diffuso Assessore chiederei l'intervento in questi casi quando si parla di web la legge che tipo di tutela può dare ma non solo su quando si ricevono queste minacce quindi che tipo di tutele può avere l'amministratore che viene minacciato ipotizziamo c'è un sindaco ci sta ascoltando ha ricevuto alcune minacce ma le ha stato valutate per pro bono pacis così perché però viene il dubbio viene il dubbio dice ma cosa posso fare soprattutto che tipo di tutela perché perché magari può temere delle ripercussioni soprattutto in ambiti più piccoli perché poi anche il nostro nord est il veneto stesso è stato colpito da queste situazioni no assolutamente si va diciamo la tutela oggi la minaccia l'ingiuria corrono diciamo come corrono diciamo in passato appunto le modalità di di manifestazione di costituzione di questo tipo di diciamo elemento del reato erano verbali o per scritto oggi appunto tutta la normativa penale si è ovviamente adeguata in primis la giurisprudenza e poi anche il legislatore a diciamo parificare quella che era la tutela per colui che a voce ti dice qualcosa oppure ti manda la lettera scritta tutto quello diciamo che invece corre online per cui insomma la tutela mi pare che in questi casi qua non si possa che richiedere tanto una tutela diciamo di vista penale quindi una condanna dell'azione diciamo intimidatoria e poi è sempre fatta salva diciamo la possibilità da parte dell'intimorito per così dire di chiedere il risarcimento del danno che ovviamente si configura come se restiamo alla minaccia alle ingiurie e così si configura appunto come un danno un danno morale altra cosa diversa è il discorso del danneggiamento dell'incendio ecco insomma questo segue altri canali che poi sono quelli classici sempre della sfera penalmente rilevante quindi vogliamo che la persona il reo venga condannato per questo atto e dall'altro se l'amministratore ritiene può questo valutare o meno di chiedere appunto anche un risarcimento del danno valido per il danno che ha subito per la perdita dell'auto oppure appunto anche unitamente un danno appunto per il dolore il danno cosiddetto morale sofferto per l'azione subita ecco quindi pare che insomma una volta innescato il meccanismo della segnalazione della denuncia le tutele ci sono ecco non veniamo a dire quanto tempo occorre perché questo insomma è un altro ambito che involge problemi molto più importanti magari per un'altra trasmissione. No quello che volevo chiedere se anche per rilacciandoci a fatti di cronaca recente quando scatta il discorso di mettere la persona sotto scorta cioè ci sono degli elementi rilevanti sotto profilo giuridico che fanno sì che la minaccia possa essere una minaccia grave o deve essere reiterata? Io le chiedo proprio perché si rivolge magari a dei telespettatori che non sono a conoscenza di questi aspetti. Beh beh sicuramente quella appunto gestione che compete in prisa al ministero dell'interno prevede appunto una gradualità una reiterazione delle minacce dell'atto e una gravità insomma per cui senz'altro dopo una ripetizione ed una offesa circostanziata sicuramente si può arrivare anche a casi di scorta ecco questo sì. E il territorio Veneto come è sistemato? Allora il Veneto io ovviamente attingo e ringrazio Claudio che insomma del lavoro veramente pregevole che ogni anno fa per avviso pubblico e diciamo per l'Italia, per tutti noi, per l'Europa e per il mondo. Allora il Veneto, il Veneto si situa insomma al decimo posto di quella classifica che è stata stilata che vede appunto in primis la Campania. Il Veneto diciamo mi pare la terza regione del nord dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna insomma di poco insomma quindi è una posizione piuttosto pesante ma soprattutto il dato pesante è che rispetto all'anno 2018 nel 2019 sono stati censiti 23 casi, questi casi ufficiali che equivalgono al 43-44% dell'aumento. Sono tanti. È veramente molto molto inquietante almeno per quanto, per come posso leggerla io. questi sono diciamo distribuiti su cinque province, su sette, la provincia di Verona poi magari facciamo qualche considerazione, la provincia di Belluno nel 2019 risultano appunto assente qualunque atto di intimidazione e questo è un dato diciamo anche positivo però insomma forse bisogna vederlo un po' più a fondo. impressionano i dieci casi della provincia di Vicenza che non sono veramente poco insomma per dire mi piace citare l'esempio delle sei automobili che erano appunto parcheggiate durante una seduta in consiglio comunale nel parcheggio riservate ai consiglieri sia di maggioranza che di minoranza che sono appunto state danneggiate proprio in concomitanza insomma con l'uso di una chiave o di un chiavistello per proprio questo un danno e con una chiarissima diciamo matrice base intimidatoria. Poi Mattezza sul Brenta che è andato in fiamme l'auto di un assessore allo sport che era candidata al consiglio comunale. abbiamo poi il caso veramente molto grave molto grave e veramente particolare che specifico dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin che nell'agosto del 2019 ha ricevuto una lettera con minaccia di morte la frase che dicevo un po' prima sei morto nella propria cassetta della posta nella sua abitazione perché questa da che cosa era scatuita questa azione dal fatto che l'assessore regionale aveva inviato ai 571 sindaci veneti una lettera chiedendo di dotarsi sui territori di competenza di una videoservaglianza contro roghi dei rifiuti e qua si va appunto a toccare un ambito che è quello della raccolta dei rifiuti e la gestione dei rifiuti dove sappiamo che le organizzazioni criminali veramente la fanno non dico da padrone però sempre più da padrone e la realtà del nord est è questo appunto uno di quegli ambiti imprenditoriali dove veramente si corre il rischio. Questo si interseca con gli ecoreati che appunto nella nostra regione fanno i conti tra organizzazioni criminali eh di vario tipo e che sono legate talvolta anche a doppio filo con alcune classi imprenditoriali quindi insomma questo atto che ha ricevuto il nostro assessore veramente fa molto molto pensare e fa soprattutto molto male l'assessore ha detto si va avanti ovviamente senza se e senza ma e questo fa solo onore perché noi dobbiamo soltanto appunto mai abdicare a quella che è la legalità ma è quella che noi riteniamo sia rispetto delle regole eh l'uguaglianza veramente dei cittadini ecco questo è un caso molto molto emblematico e proseguendo con le province abbiamo detto sei casi sono sono risultano anche nella provincia di Treviso anche qua una candidata sindaco di un paese della provincia ha ricevuto la stessa frase diciamo intimidatoria con riferimento alla morte poi ehm che addirittura è contenuta in alcuni volantini elettorali quindi che gli erano stati poi rimandati imbrattati e da un anonimo eh ci sono cinque casi della provincia di Venezia che eh qua si intersecano anche con delle inchieste eh sempre più numerose e importanti che eh sia la procura distrittuale antimafia sia diciamo le squadre mobili delle nostre province attuano sul nostro territorio ecco c'era poi anche una una ritorsione contro il comandante della polizia locale di Eraclea colpevole eh per così dire perché aveva sanzionato più di un'occasione eh il figlio di un presunto boss eh locale quindi eh pesante insomma veramente qua si vede si va oltre queste sono veramente le intimidazioni che hanno proprio una sfumatura una matrice veramente criminale non è tanto il cittadino che magari non ha avuto il certificato di eh di edificabilità di un suo terreno ma qua veramente si va molto più a profondo e molto più eh pesante. Assolutamente. Poi abbiamo le province di La Padova e di Rovigo che hanno almeno quelli che sono stati segnalati e risultano nel rapporto un caso a testa. Verona appunto è proprio è la provincia in colore bianco insieme a Belluno eh sì che Verona ormai insomma da circa da quasi un anno è eh oggi la città eh con il più alto numero di residenti duecentosessantamila circa che ha superato appunto l'anno scorso di seppur di poco al momento ehm Venezia Mestre ecco. Quindi ehm da pensare che essendo Verona una eh città così importante numericamente una città eh molto ricca con realtà imprenditoriali molto importante. Una città dove anche eh recentemente eh eh è stata interessata da questa è proprio l'ultima inchiesta eh da parte della procura distrettuale antimafia di Venezia insieme alle squadre mobili di Venezia e Verona. L'inchiesta Isola Scaligera che è proprio recentissima recentissima la quale appunto ehm prospetta la presenza di una locale di andrà anche età eh che avrebbe riguardante una famiglia di Isola di Capo Rizzuto quindi penso che il nome sia nato così Isola Scaligera Isola Capo Rizzuto che abbia veramente molto radicata nella città e in provincia. Peraltro notizia proprio di questa mattina leggo sul Corriere che il Tribunale viene esame diciamo in in sede di ehm valutazione delle degli ordini di eh di di arresto domiciliari o detenzione di eh qualche giorno fa addirittura praticamente se non integralmente ma ehm riconfermato queste ipotesi investigative. Ma qui se ne interrompo un attimo Assessore perché dobbiamo la pubblicità che incombe. Un attimo solo. Abbiamo in pubblicità. Riciclaggio, quanto riguarda tutto riciclaggio, traffico di rifiuti speciali per quello che pensando al nostro Assessore ho pensato a questo eh truffe, fatture false e così. Sì, sappiamo bene il gioco d'azzardo, l'usura e altro. Scusi, lo interrompo un attimo perché devo andare in pubblicità assolutamente. Pubblicità tra poco. Grazie.